Sono il segredore di AV24.com, noi siamo a direttamente in la cruzata di Conning Strat a Amma Strat, dove c'è stata una detenzione a Cava di Caye, poi c'è stata una prima detenzione a Cava di Caye, in Duarte Strat, in casa di Pello, in Nord, e poi c'è stata una altra detenzione a Caye, con una polizia di un patrullano di un auto particolare, con un ciclista corriendo bicicletta, dove c'è stata una pared, e poi c'è stata una detenzione a Cava di Caye, e poi c'è stata una scelta per la cava di Caye, durante le ore di toque di Caye. Non ci sono davanti alla comunità, per favore, Xi, a mangiare in casa, per quise c'è una casa. Questa sopra, anziare in un abit di Mil Flori, per cui c'è stata una cava di un abit di come, queste sono massima che ancora per le ore di Caye. Allora, per cui c'è stata una casa durante la dieta, la cava di Caye. Stiamo guardando il veicolo di trasporto detenito per riconoscere le persone qui in questa riva. Grazie.